Musica Tutto pronto per l'edizione 2018 della Sagra dell'Uva di Roccazzo? Sono tante come sempre le iniziative previste, c'è tanta tradizione ma soprattutto tanto sapore. Assolutamente sì, quest'anno andiamo avanti con dei problemi soprattutto di annata in quanto non abbiamo un'annata splendida per quanto riguarda l'uva sia da mosto che da tavola ma in ogni caso noi come ha detto per non perdere le nostre tradizioni, le nostre origini per portare avanti questa Sagra che dura da tantissimi anni ci sforziamo nonostante l'annata ci sia qualche problema abbiamo selezionato naturalmente l'uva da mosto e l'uva da tavola e quindi inizieremo il venerdì sera che sarà la prima serata di lavoro importante. Ecco proprio venerdì sera ci sarà la preparazione del mosto? Esatto, venerdì sera abbiamo la prima bollitura di mosto assieme alla bollitura di mosto la famiglia diciamo della Sagra lavorerà per allietare questa serata come la tradizione vuole praticamente si fa un lavoro particolare se prendono i peperoni si mettono sulla braccia assieme ai pomodori e all'olio d'oliva e quindi poi si fa una mangiata di peperoni e poi giustamente si aggiunge la salsiccia, un bicchiere di vino questa è la tradizione della vendemmia antica di una volta. Oltre all'uva ci saranno altri protagonisti? Assolutamente sì, quest'anno abbiamo addirittura un prodotto nostro che è la mandorla tostata che è praticamente l'albero motore per quanto riguarda il gusto vero e proprio della mostata abbiamo avuto la possibilità di avere la nostra del nostro territorio e di conseguenza la utilizzeremo assieme al mosto all'impasto delle frittelle famose alla salsiccia nostra di Chiaramonte e a qualche dolcino che sarà sparso in giro per lo spazio e quell'aria della Sagra. Una tre giorni di gusto e sapore ma anche di spettacoli? Certo, il sabato sera ci sarà una sorta di illusionista che è Emanuele D'Angeli un gruppo che farà praticamente musica degli anni 70, 80 e 90 che è il Good Time invece la domenica sera dopo l'ennesima lavorazione come il sabato o forse anche molto più perché la domenica sarà più ricca spero almeno di pubblico alliederà la serata Nichi Luciani che è un ex artista dei Cugini di Campagna. Un motivo per venire a visitare la Sagra? Beh ci sono tanti motivi io penso che il motivo assoluto sia il gusto perché sono delle cose che ormai sono scomparse e noi la nostra lotta anche con i giovani che credono poco a queste cose abbiamo tentato di metterli assieme per se è possibile lasciare una radice poi si vedrà.